Buonasera, ben arrivati. Un saluto al magnifico Rettore Francesco Bertini, al Vescovo di Bologna, Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, a tutte le autorità presenti, ai colleghi, alla società civile e ai nostri studenti che hanno deciso di accettare l'invito a questo pomeriggio di studio, che è un pomeriggio dedicato ad un'analisi del documento Economice Pecuniarie Questiones, che dovreste aver ricevuto stampato nel materiale di benvenuto. E questo pomeriggio di discussione si inserisce all'interno delle attività organizzate nell'ambito di due convenzioni che l'Università di Bologna ha attivato con la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna e con lo studio filosofico domenicano. Queste due convenzioni hanno lo scopo di mettere a disposizione agli studenti dei tre Atenei parte delle rispettive competenze, parte della rispettiva offerta didattica, attivando uno scambio che possa ampliare gli orizzonti culturali di tutti i nostri ragazzi. Abbiamo deciso di organizzare questo pomeriggio per far conoscere a tutta la società civile invece l'esistenza e la finalità di queste convenzioni e per discutere di questo documento che è stato pubblicato poco più di un anno fa e che è relativo al rapporto fra il mondo economico e l'ambito umano. E questo documento è particolarmente interessante perché interroga relativamente a tre livelli. Un primo livello fondativo, circa il rapporto che c'è fra economia e uomo. Cioè se questo sia un rapporto nel quale l'uomo debba sottomettersi fondamentalmente alle leggi economiche oppure se le leggi economiche debbano essere a servizio dell'uomo. Un secondo livello è un livello tecnico, perché il documento cita alcuni meccanismi economici e alcuni meccanismi del mercato finanziario che meritano un approfondimento dal punto di vista anche tecnico per essere compresi. E poi naturalmente un livello che è un livello politico, perché sempre il documento richiede anche un intervento da parte delle istituzioni nazionali e delle istituzioni sovranazionali che hanno in potere la capacità di regolare effettivamente questo rapporto che c'è fra economia e società. Il documento, come vi dicevo, è stato pubblicato poco più di un anno fa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e della Congregazione per la Dottrina della Fede e quindi una domanda che ci è subito sembrata interessante è ma perché l'Università di Bologna ospita la presentazione e la discussione di un documento che ha delle basi dottrinali così chiare, anche se nel documento fanno in realtà da contorno a tutta una discussione tecnica presente ed abbastanza articolata ed approfondita. Ecco, secondo me è proprio questa particolare, direi, incursione della Chiesa nel mondo secolare che merita una particolare attenzione e merita ancora più attenzione dopo la lettura di queste pagine che in realtà sono poche ma sono dirompenti e uso il termine dirompente perché in qualche misura, oltre ai livelli che ho citato prima, questo documento ci chiama in causa direttamente in quanto enti di formazione, quindi chiama in causa direttamente i tre atenei quando dice, vi cito questo passo, dice che sia auspicabile che specialmente le istituzioni universitarie e le business school all'interno del loro curriculum di studi in un senso non marginale o accessorio bensì fondativo prevedano dei corsi di formazione che educhino a comprendere l'economia e la finanza alla luce di una visione dell'uomo completa, non ridotta ad alcune sue dimensioni. Quindi questo è un motivo forte che ci chiama in causa direttamente. Un secondo motivo è perché il documento critica alcuni principi dell'economia e in realtà anche del modo attuale di fare business, dove però critica significa dire la dimostrazione dell'inadeguatezza per l'uomo di questo modello di economia. E lo fa in modo particolarmente efficace e dirompente, come dicevo prima, secondo me. E in terzo luogo perché non si limita a criticare, ma offre anche una soluzione. E offre una soluzione in termini di un orizzonte di senso da dare all'azione economica che non deve essere un semplice ente superiore dotato di una vita propria, ma deve essere invece uno strumento che sia messo al servizio dell'uomo. Quindi, insomma, questo documento ci pareva di particolare interesse proprio perché affronta la questione ad un livello accademico, dal punto di vista educativo, che noi riteniamo fondamentale, perché facciamo esattamente questo lavoro, ci occupiamo di questo, e poi da un punto di vista invece della società civile, perché chiama in causa tutti, non soltanto le istituzioni accademiche o quelle politiche. Per parlare di questo documento, hanno accettato di essere presenti il professor Massimiliano Marzo, del Dipartimento di Scienze Aziendali, economista, che quindi analizzerà anche dal punto di vista tecnico alcuni degli strumenti e alcune delle problematicità messe in luce dal documento. Abbiamo Monsignor Mario Toso, che è vescovo di Faenza Modigliana e che ha già partecipato alla stesura della Caritas in Veritate, quindi è un esperto anche di questo rapporto fra economia e società, e ci spiegherà anche come mai la Chiesa ha deciso di occuparsene. Abbiamo con noi la professoressa Anna Maria Tarantola, che è già stata in Banca d'Italia, ex presidente della RAI, e che ci potrà dare una visione complessiva anche a livello di cosa significa inserire un principio etico nell'utilizzo degli strumenti economici e finanziari. Ci sarà la dottoressa Sonia Bonfiglioli, che è imprenditrice dell'anno scorso, e che quindi ci potrà portare il punto di vista dell'impresa. E poi concluderà Stefano Zamagni, professore di economia del nostro Ateneo, che è anche presidente della Pontificia Accademia per le Scienze Sociali.